ciao ragazzi salve a tutti allora oggi facciamo qualche investimento sulla piattaforma fimax con i grafici di net dania sempre a 60 secondi sull'euro usd possibilmente io ne faccio sempre tre investimenti quindi non ne farò molti investimenti mi baserò sul grafico con le rsi a 7 periodi e le bande di bollinger semplici allora sapete l'investimento minimo su questa piattaforma e 25 euro quindi adesso il grafico c'è un leggero ribasso vedete le rsi come sta andando dentro io aspetto per vedere se vuole andare giù oppure vuole andare su nel senso se questa è solo una candela momentanea perché c'era un rialzo e questa potrebbe essere una candela momentanea dunque vediamo credo che voglia andare al rialzo proviamo con il rialzo come vedete quando voi mettete i 60 secondi vi vengono messi anche questi secondi rimasti questa è simile alla piattaforma della bd swiss in effetti sta andando su vedete questa candela si è risollevata vediamo se l'investimento andrà un buon fine come vedete la dx è a 28 l rsi si è risollevato manca un minuto alla scadenza questa è la tecnica a 60 secondi con l'rsi a 7 periodi e i livelli a 40 e 60 e la dx ha sempre a smoting 14 e periodo 9 il minimo investimento su questa piattaforma e 25 euro vediamo se continuerà ad andare al rialzo sta scadendo ok è scaduto il tempo l'opzione andate in guadagno adesso vediamo i prossimi movimenti se vuole risalire o vuole scendere vedete la tendenza è sempre a ribasso però ci sono state queste fluttuazioni al rialzo andiamo per il momento sta scendendo vediamo se scende oltre la linea 20 periodi e che cosa fa l'rsi e che cosa fa l'rsi e che cosa fa l'rsi proviamo a rialzo c'è molta indecisione però sembra che il trend voglia andare a rialzo però c'è qualcosa che non la fa andare a rialzo ci deve essere qualche resistenza comunque vediamo ho investito per il rialzo manca un minuto alla scadenza sta continuando a salire come vedete 30 secondi alla scadenza e sta continuando a salire forse ha rotto questa resistenza adesso vediamo le prossime mosse in modo che possiamo fare un altro piccolo investimento vedete l'rsi come sta salendo in ipercomprato questo investimento è andato bene allora adesso vediamo la prossima mossa vedete vuole andare al rialzo però qui c'è una resistenza sicuramente vediamo se riesce a spaccarla oppure viene buttato giù sta tentando di salire sta salendo vediamo questo è il massimo che ha raggiunto vediamo se lo supera vediamo se io investire per il rialzo vediamo adesso se ce la facciamo dunque un minuto e 02 vediamo un poco vedete ha superato se non si ritira indietro la candela e continua ad andare al rialzo vediamo un poco qua c'è una situazione un po incerta sembra che si stia ritirando la candela se si ritira la candela io investo per il ribasso vediamo un po cosa vuole fare allora vediamo se vuole andare al ribasso qui c'è un altro supporto vedete tende sempre a risalire però non ha molta forza quindi vediamo se ha la forza per andare al ribasso come vi ho detto è sempre meglio non investire contro tendenza quindi il ribasso sarebbe un contro tendenza perché adesso sta andando a rialzo vedete sta in iper comprato però ci potrebbe essere una candela che cade giù dato che qui c'è una resistenza e non sta riuscendo a superarla scendiamo giù vediamo io ho messo per un ribasso e sono usciti quasi due minuti perché un minuto più i secondi che stavano qui adesso vediamo se andrà al ribasso non ha molta forza di salire sta risalendo sta di nuovo risalendo vediamo un poco dunque questo punto vediamo se riesce a risalire io punterei per il ribasso in questo punto qui vediamo un po' quindi se non dovesse andare bene questo dovrebbe andare bene quest'altro perché penso che ancora non ce la fa salire quindi questo non lo prendo di certo in undici secondi non scende giù vediamo quest'altro questo però Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, sono 275 euro. Allora, mettiamo un più così. E vediamo l'investimento come va. Allora, ha deciso di salire. Vediamo se andrà a ribasso. Se va a ribasso, vediamo. Allora, 211, 212, vediamo se va a ribasso. Io ho messo altri 200 euro. Vediamo se scende. Perché ha fatto una salita. Adesso vediamo se scende. Allora, dunque, 40 secondi. 30 secondi, sta scendendo. 20 secondi. Allora, è andato. Allora, vediamo. Allora, vediamo. 2665. Quindi, ho recuperato i soldi persi e ne ho vinti altri. Allora, facciamo un piccolo conteggio delle operazioni che vi ho fatto vedere. Dunque, sono iniziate da 25 euro. Allora, facciamo un piccolo conteggio delle operazioni che vi ho fatto vedere. Allora, 44 euro virgola 75 meno 25. Così vediamo quanto ho guadagnato. 19,75 più 19,75. Poi, facciamo più, sono 158 più 158 più 158 uguale 355. Poi, dobbiamo fare meno 175 meno 75 meno 25. 80 euro. Quindi, un guadagno di 80 euro. Se non avessi sbagliato queste, però, diciamo che il momento non era uno dei migliori per poter investire. Perché, praticamente, che cosa stava succedendo? Stava succedendo un rialzo. Infatti, l'indicatore dell'RSI stava andando anche in ipercomprato. Allora, qui c'era una resistenza. Questa indecisione di resistenza faceva sbalzare il prezzo. Siccome molti di voi, molte volte, mi dicono che la candela si ritira, la candela si ritira, sta andando in una direzione, però, subito si ritira, è perché ci sono queste situazioni, appunto, dove c'è una resistenza. Vedete, in effetti non ha sfondato ancora, dove c'è una resistenza e quindi la candela è indecisa se andare al ribasso o al rialzo. Quindi, se non ci fossero state quelle indecisioni, avrei guadagnato molto di più. Comunque, l'importante è riuscire sempre a recuperare i vostri soldi. Naturalmente, se avete un capitale più basso, vi consiglio di andare a leggere l'articolo della gestione del money management. Adesso vi faccio vedere il mio sito www.opzioni-binarie-60-secondi.it Sul mio sito potrete trovare molte informazioni che vi possono essere d'aiuto. Quindi, che succede? Allora, vi faccio vedere subito. Allora, le strategie, io ho utilizzato una strategia a 60 secondi, che l'ho messa pure qui. Quindi potete andarla a cercare, questa strategia. E negli articoli andate a leggervi il money management, così per gestire, per riuscire a gestire al meglio il vostro denaro. Quindi, nel money management, io vi spiego con quanto capitale potete iniziare e quanto dovete investire. Quindi, se avete un capitale inferiore, fate degli investimenti minori di quelli che ho fatto io, considerando sempre, però, che il minimo investimento su questa piattaforma è di 25 euro. Questo significa che dovete fare un calcolo sui 25 euro. E qui vi spiego come fare il calcolo. Potete scaricare il formato PDF. Invece, per chi volesse i grafici, i grafici sulla piattaforma di FrixoChart, i grafici multipli, può andare a vederli qui. Io ho messo dei grafici multipli con delle tecniche già configurate. Quindi, se voi utilizzate una particolare tecnica, prima sinceratevi e vedete se c'è questa tecnica. Naturalmente, io sono andata con Google Chrome, però voi andate con Internet Explorer, se no, non riuscirete a visualizzare i grafici. Quindi, se volete visualizzare i grafici di FrixoChart, andate con Internet Explorer, perché molte volte mi vengono fatte queste domande che non riuscite a visualizzare i grafici. Allora, dovete installare il Silverlight, che è gratis, e dovete andare con Internet Explorer, che non è Microsoft Edge, ma è Internet Explorer. Poi, invece, qui ci sono i miei e-book per chi volesse iniziare a investire nelle opzioni binarie. Sono e-book e anche libri. E quindi, qui c'è scritto tutto, le tecniche varie ed eventuali. Poi, ci sono anche altri libri, come per esempio, La Psicologia del Trading, La Psicologia del Trader, e L'Inversione del Trend, che sono dei libri in generale, che, diciamo, sono importanti anche per il Forex. In questi libri, invece, vi è spiegata anche l'analisi tecnica, però ci sono delle tecniche fatte apposta per le opzioni binarie. Più in là farò delle tecniche fatte apposta per il Forex. Quindi, se volete andare a leggere le informazioni, potete andare a leggere informazioni su questa piattaforma Finmax. Se non riuscite ad avere il conto demo, è perché dovete installare un programmino che si chiama VPN. È un'estensione di Google che la dovete installare nelle estensioni. Vedete? Io l'ho installata qui. estensioni. Estensioni. Questa è, praticamente, cambia il numero del vostro proxy. È una cosa momentanea. Quando la installate, dovete, vi collegate alla piattaforma, dovete fare connetti e la piattaforma si visualizzerà. Naturalmente, questo non è per tutti così. Io tengo una linea telefonica che mi hanno detto che non riusciva a visualizzare. Infatti, quando mi sono iscritta, non riusciva a visualizzare i grafici. Allora, bisogna installare questo programmino e nel momento che voi fate trading lo utilizzate, quindi lo connettete. Nel momento che non fate trading lo disconnettete e rimuovete l'estensione, quindi la annullate, questa estensione. Se avete bisogno del link per scaricarlo, io ve lo metto sotto nel box. Quindi, così potete richiedere il conto demo a questa piattaforma Finmax. Io sto per il momento provando altre piattaforme e sto provando altre tecniche sia per il Forex e sia per le opzioni binarie che credo che siano molto buone. Però, prima di farvele vedere voglio provarle io. Insomma, se avete bisogno di aiuto potete scrivermi sempre alla mia email sonia.salerno chiocciola email.it Vi risponderò subito tranne molte volte su Messenger perché i messaggi non li riesco a vedere quindi o mi scrivete su Facebook sul sul gruppo o altro se no molte volte non riesco a rispondere su Messenger e quindi preferisco rispondere per email quindi scrivetemi per email. Vi auguro buona giornata e ci vediamo al più presto con un prossimo video sul Forex. Ciao a tutti! Ciao a tutti!